Le previsioni meteo per sabato 31 agosto di Globus Television, giornata contrassegnata da condizioni di bel tempo e clima molto caldo, cielo prevalentemente sereno. La nuvolosità infatti sarà piuttosto scarsa e occasionale. Temperature massime fino a 35 gradi, valori notturni per lo più stazionari. Mari, Mar Ionio poco mosso, Mar Tirreno quasi calmo, stretto di Sicilia poco mosso.